Sentire il Ducon, affrontiamo! Guardami! Più forte! Non mi sento! Non puoi sbagliare! Voleviamo dal fatto! Orti eroi che evita lo sbattaggio alla sua squadra! Vieni! 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 Pagmina! 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 Presto tra la parte! No! L'impare? Guarda di nuovo il capo! Alì, 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 alì! No, no! E' un'intervento da paura! Non crede che ci arriva, tranquillo! Si oppone da campione! No, non crede che ci arriva! Il partito! E' un'intervento! C'è un'intervento! Il campurato dell'Erico del Portiere. Mame, come è Mame! Ricci è gatto. Braghi da Parato! No, Bagnotti è un'attaccio. L'asciuto in Lucha. Un minuto al luce Paglia. Un minuto al luce Paglia. Intervento in Tiri del Portiere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.